Dal mare alla città le bellezze di Napoli viaggiano in rete. Riparte la seconda edizione del progetto di promozione della città sui canali digitali Naples Today che ha fatto registrare lo scorso anno oltre un milione di contatti grazie al racconto attraverso post dedicati, contenuti inediti e foto sul web. A diffonderli sono famosi blogger nazionali ed internazionali ospitati la scorsa primavera a Napoli grazie al progetto che GESAC, società di gestione dell'aeroporto partenopeo, ha realizzato con l'assessorato alla cultura e turismo del comune e la collaborazione dell'associazione dei bed and breakfast napoletani. Come aeroporto avendo lanciato tantissime rotte nuove internazionali evidentemente è importante spingere sulla domanda e sul turismo e alla stregua anche di altre città europee ci vogliamo utilizzare la leva quella di internet e quella dei social media. Quindi fondamentalmente sono stati selezionati dei blogger internazionali, questi blogger sono stati selezionati sulla base di quanti follower hanno, quindi di quanto sono capaci di influenzare il pubblico. Verranno qui, vivranno un'esperienza fantastica in città, sia centro storico che Napoli vista dal mare e racconteranno la loro esperienza postando sui loro blog o postando anche fotografie. La possibilità che la città venga letta e vissuta direttamente e possa quindi trasmettere attraverso i blogger l'emozione che, il fascino che riesce a procurare. Io direi che in più, oltre al valore in sé che ha l'iniziativa, c'è un valore aggiuntivo che è dato dal fatto che questa attività, questo lavoro, questa esperienza viene fatta adesso con più sinergie. Quindi oltre ai protagonisti dell'anno scorso, vi sono nuovi soggetti e credo che questo sia un bel segnale. L'edizione 2016 di Naples Today è stata presentata oggi nella sede dell'Unione Industriale di Napoli e con il coinvolgimento di Federal Berghie punta ancora di più sulla promozione della destinazione Napoli. La città sarà raccontata quest'anno da quattro blogger provenienti da Spagna, Olanda, Inghilterra e Francia che saranno in visita nella nostra città a marzo alla scoperta di itinerari dedicati. Il viaggiatore, diciamo così, individuale, un po' fai da te, si è ritagliato uno spazio fondamentale e utilizza il web come strumento di conoscenza e di orientamento. Noi dobbiamo essere assolutamente adeguati a queste nuove tendenze. Grazie all'hashtag Naples Today racconteranno la ricchezza culturale e sociale di Napoli, attraverso gli scorci più suggestivi, aumentando la visibilità e l'afflusso turistico del nostro territorio.